Stamattina quello che chiediamo al governo è di dare una soluzione a quel tema che è stato chiamato esodati che è la dimostrazione di un'insopportabilità del fatto che si lascino le persone da sole e si continui a rinviare la soluzione dei loro problemi. E' sempre più incomprensibile anche perché come è noto si potrebbero spalmare i costi necessari su più anni ma nello stesso tempo dare tranquillità alle persone. E' evidente che i criteri che sono stati adottati tra il primo decreto che speriamo venga finalmente pubblicato e l'ipotesi che c'è nella spending review non coprono l'insieme delle tipologie e delle denunce che abbiamo fatto rispetto ai casi che ci sono. Dai fatti che abbiamo intorno i problemi si moltiplicano e non si riesce mai a risolverne nessuno. Parazzo Chi ci smentisce interventi sulle tredicesime però le tensioni neopubiche in Pego sono alti. Io credo che sia molto importante che Palazzo Chi già abbia smentito, spero che se ne ricordi anche nei mesi prossimi e che non cambi opinione. Ci aspetta un agosto caldo? Io direi che per il momento ci aspetta un agosto preoccupante. Oggi ci pensa a noi a gridare, a dire per favore, non faccio, io mi sto piangendo per il dolore. Il governo in questo modo non solo non risponde ai nostri quesiti ma si tirerà presso una miriade, una caterva di ricorsi giudiziari. Allora recuperare serietà, dico alla Fornero di aprire una discussione su questo. Lei non può continuare come se se la suonasse e se la cantasse da sola perché sta parlando di questioni che riguardano centinaia di migliaia di persone. Faccio parte del gruppo Esmol, Donne Esodate, Mobilitate e Licenziate, che si è costituito proprio perché la riforma Fornero del sistema pensionistico produce una penalizzazione di genere fortissima ai danni delle donne, in particolare delle donne che non hanno più lavoro perché lo hanno perso. Come si va in pensione comunque a 66 anni, queste donne che avrebbero dovuto aspettare uno, due, al massimo tre anni per beneficiare della pensione, ne devono aspettare sette, otto e anche nove, senza retribuzione, senza pensione e non è immaginabile che possano rientrare nel mercato del lavoro. Le nostre sensazioni sono che i soldi per noi non ci saranno mai perché intanto sono tutti tesi a difendere i solidi privilegiati, la patrimoniale non si fa perché chiaramente questo è un diktat di Berlusconi, quindi io mi dico se Monti non ha il coraggio di fare quello che ha annunciato che avrebbe fatto, cioè che avrebbe operato con equità e rigore, ma perché non ha il coraggio di dimettersi, almeno quello?